Sapete cos'è che mi dà fastidio di questa storia della cazzata che ha detto Saki ieri? Che voi milanisti, oltre ad essere degli invidiosi e state rosicando fino alla fine come i gobbi, non riuscite neanche ad essere razionali. Cioè, qua l'unico youtuber che è riuscito a dire la verità è stato Giorosonero Benzinero e non lo dico perché faccio le live con lui, perché lui è stato onesto con voi tifosi milanisti che preferite sentirvi dire le cazzate da altri tifosi milanisti tipo il bandito, il marietto e altra gente, DNA, o anche DNA rosso-nero, come mai, spiegami, hai cambiato un po' i toni, prima eri più tranquillo, adesso sei diventato come marietto e il bandito rosso-nero. A parte questo, cioè io vorrei capire perché nessuno dice che due anni fa il Milan ha vinto lo scudetto avendo i debiti, che quindi il discorso che ha fatto ieri di Arrigo Sacchi non ha un cazzo di senso logico? Perché non riuscite a dirlo? Perché vi è difficile dire la verità? Perché dovete rosicare così tanto da dover nascondere quello che vi è successo a voi? E altra cosa, brutti somari milanisti, perché voi che ci siete passati prima di noi col vostro cinese che era farlocco, che stavate andando giù, che poi dovevate fallire, non siete falliti, perché? Perché avevate un fondo dietro, come all'Inter, che una volta che il cinesino non ha pagato, si è preso la società Milan e l'ha rimessa a posto. Quindi voi sapete già che noi non falliremo e dovreste saperlo meglio di tutti perché siete i primi che ci siete passati, i primi porci siete stati voi. Quindi adesso che date dei porci a noi fa un po' ridere, fa molto ridere perché non siete coerenti, prima cosa, siete invidiosi perché noi con i debiti, non potendo far mercato, quindi acquistando a parametro zero, vi caghiamo in testa, vi scorreggiamo in faccia da inizio anno, ok? E voi, youtuber milanisti, continuate a dire cazzate ai vostri iscritti che vi seguono dicendo che l'Inter fallirà. Ma voi siete un branco di idioti, ve lo dico io, poi se mi bloccano il canale perché vi dico sta cosa non me ne frega niente. Voi siete un branco di idioti che non sapete neanche cosa dire, voi dite ste cose solo perché vedete il milanista che è lì che sta rosicando, poverino purtroppo, è lì che cerca di attaccarsi a qualunque cosa qualcuno dica. Quindi per voi dire che l'Inter fallisce significa dare in pasto a questi boccaloni il suo vermicello da mangiare ogni giorno e questi boccaloni milanisti sono lì con la bocca aperta e voi gli infilate questo bel vermicello in bocca così sono belli che contenti. Ma io mi chiederei ma il milanista serio, almeno uno come Joe che è sveglio e non si fa, diciamo, e non becca tutte le cazzate che dicono gli youtuber milanisti? Perché ragazzi quello che dice il bandito, il marietto, cioè è fuori dalla DNA rosso-nero, sono fuori dai coppi, eh? Siete fuori dai coppi ragazzi, dire che l'Inter potrebbe fallire, che l'Inter fallirà, vi mandano in Serie C, ci siete passati voi branco di competenti che non siete altro. Però vi sta bene, dovete rosicare fino alla fine e quando vinceremo lo scudetto? E auguratevi, e auguratevi che non lo vinciamo in casa vostra nel derby, perché ripeto, se lo vinciamo in casa vostra nel derby, il romagnolo fa un video che vi insulta dal primo secondo all'ultimo e faccio pure i nomi. Non me ne frega niente, non me ne frega niente, vi insulto uno a uno, perché voi storcete la realtà dei fatti quando ci siete passati prima voi e volete far passare un altro messaggio, quindi siete anche dei cazzari. Cazzari, cazzari, cazzari. E il romagnolo è qui per dirvelo, cazzari, cazzari, cazzari. Ci vediamo stasera, mi raccomando, farò la live perché voglio gufare quei milanisti. Visto che mi avete gufato per la Champions, faccio la live per gufarvi. Vi voglio alle 20.55, quando giocano, 5 minuti prima della partita, che gli facciamo il culo. Forza Roma e anche, dico anche Forza Lukaku, vi deve fare due gol Lukaku. Se vi fa gol Lukaku, vi uccido, vi uccido. Se vi butta fuori la Roma con Lukaku, siete finiti, siete finiti. Ricordatevelo, voi adesso state sborando perché siete in Europa League, ma ricordate che voi potreste avere la vincita dello scudetto in casa vostra nel derby e potreste essere buttati fuori dalla Roma. Dopo ridiamo noi, eh. Occhio, occhio, a dopo. Iscrizione al canale, mi raccomando. Ciao belli.